L'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo noi è inadeguato per quello che è il momento emergenziale che le imprese stanno vivendo soprattutto alle nostre latitudini. Noi chiediamo una riapertura, il prima possibile, degli esercizi commerciali e in sicurezza naturalmente e contributi ed indennità a fondo perduto per le aziende stesse. E' oltre 40 giorni che stiamo aspettando liquidità per le imprese. Abbiamo chiesto anche a squarciagola, anche con una certa enfasi, abbiamo richiesto che ci siano delle misure urgenti perché le imprese sono al collasso. Soprattutto nei nostri territori, qui in Calabria, nella provincia di Catanzaro, vi sono delle imprese che sono in crisi già per il sistema e per il tessuto economico così fragile. Questo sistema emergenziale purtroppo sta portando alla mortificazione delle imprese. Le imprese moriranno per decreto. Questo purtroppo non è più solo uno slogan, sta succedendo realmente. Tra l'altro la mai avvenuta immissione di liquidità nelle imprese stesse mette nelle condizioni di le aziende di ascoltare e forse aderire ai falsi benefattori dell'usura. Questo non ce lo possiamo consentire. La liquidità significa tanto. Anche la Banca d'Italia, l'11 aprile, ha lanciato un appello alle banche perché si muovano nella maniera più veloce per uniformarsi a quelle che sono le norme del governo e quindi per dare ristoro economico alle imprese stesse. Noi abbiamo la necessità di dare risposte oggi. La mancata liquidità mette nelle condizioni chi ha domani, nel prossimo immediato, dei titoli in scadenza di non poterli onorare. È chiaro che le nostre imprese onorano i titoli in scadenza con gli incassi che vengono fatti giornalmente. Se gli incassi non ci sono, i titoli in scadenza non possono essere onorati e questo è un problema non solo nell'immediatezza ma anche per il futuro dell'impresa perché l'iscrizione alla CAE, alle varie centrali rischi, metterà nelle condizioni le aziende di non poter operare. E questo è un problema che non possiamo assolutamente permettere. Allora, dobbiamo metterci nelle condizioni oggi di dare risposte ai tanti esercizi commerciali che non hanno potuto aprire e alzare la loro serranda. Delle due l'una. O non puoi aprire e allora ci sono dei momenti emergenziali importanti per i quali il governo dovrà prendere delle misure e le misure sono quelle della liquidità. Non puoi aprire e allora il governo mette sul tavolo indennizi e contributi a fondo perduto per quelle imprese che oggi non hanno come portare avanti un progetto che non è semplicemente economico perché dietro ogni impresa, dietro ogni esercente c'è una famiglia.